Ehi ragazzi, ho tardato oggi col video, me ne scuso, ma è per una buona causa ragazzi che Frenturam è atterrato a Torino Le immagini Bentornati ragazzuoli, come state? Mi auguro bene Oggi è un altro giorno importante per la Juventus perché andremo a ufficializzare dopo le visite mediche di ritto dopo l'arrivo al G-Medical di Kefren, quest'altro nuovo acquisto per il reparto di Mediana dopo Douglas Lewis Insomma, aspetto le vostre considerazioni sotto nei commenti Iscrivetevi al canale ragazzi, che è importante Siamo vicini ai 100.000, mancano 2.500 iscritti circa Quindi poca roba rispetto ai 97.500 che abbiamo già come community Vi invito insomma a continuare a seguirmi Grazie, e ricordate il like, che dà un boost all'algoritmo mica da ridere Allora, passiamo subito alle notizie di oggi in generale Oggi è il giorno di Kefren Turam Come si svilupperà la giornata, lo sapete già, per un nuovo acquisto In genere molti arrivano la sera prima In modo da avere la notte per riposare serenamente E poi l'indomani mattina, da presto, sveglia presto Visite mediche, chiederanno un bel po' per un calciatore Non sono come quelle di Tiago Montaglieri Che sono state molto rapide Perché i controlli che deve fare Tiago sono differenti Rispetto ai controlli che deve fare invece un giocatore Che controllano articolazioni, carico, muscoli Tutto, tutto, sono molto approfonditi al J-Medical E quindi dopo le infinite visite mediche Il calciatore risale nell'auto Arriva alla sede della Continassa Firma il contratto Che poi è una firma fasulletta Diciamo così Perché uno il contratto poi lo va a firmare ragazzi Telematicamente Firma il nostro contratto per le foto Per lo shooting Dopodiché ci si trasferisce alla Creator Lab Per quanto riguarda le foto, i contenuti, i video, social, ecc E finisce così la giornata Che sono già le 7 di sera E magari iniziano ad uscire i primi video Legati al video della Juve Che testimoniano un po' Tutto ciò che è successo nell'arco della giornata Io ragazzi sono molto contento È uno dei colpi che bramavo da più tempo È un colpo importante che secondo me Leva spazio e possibilità Al fatto che Rabiot possa rinnovare in qualche modo ragazzi E quindi vi dico anche già che A mio parere Questo acquisto Fatto con questa tempistica Porterà Adria e Rabiot a dire addio alla Juventus Oggi c'è, ripeto, la firma sul contratto Di Turam Quindi due e mezzo netti a stagione Che è un bel upgrade rispetto agli 800k netti Che prendeva prima in passato Dopodiché la Juventus Vedremo che comunicato farà Per le cifre Perché siamo tutti molto curiosi Sarà un 17 più bonus Un 20 più bonus Perché se ne sono dette di diverse possibilità Dal punto di vista del costo del cartellino Ma non abbiamo ancora un'idea chiarissima Di quelle che sono le cifre E anche se a livello mediatico Possono dirvi tutte le cifre possibili Immaginabili Fino alla scritta e al comunicato È impossibile comprendere Quanto effettivamente è costato quel giocatore Io ricordo Moise Ken Si parlava di cifre molto basse Poi in realtà È stato un salasso Parliamoci chiaro Per cui Turam Day Sono veramente Contento È un giocatore Ripeto che non è finito Che va migliorato Ma con Tiago Motta Che io non so se l'abbiate sentito Ma ha detto Fantastico Lavorare in questo posto Perché ha fatto la visita Alle strutture C'è stato un primo giorno D'ambientamento E guardate bene Anche il contenuto Che ha creato la Juve Sul primo giorno Di Tiago Motta È un contenuto Sempre fantastico Tra un dietro le quinte È un diario Giornaliero Dei giocatori Quindi seguite anche la Juventus E quindi Sarò curioso di vedere Anche il primo giorno Di Di Cheferen Turam Perché fa un bel passo In avanti Secondo me A livello di carriera Dal Nizza Passerà alla Juventus Interessante Però ripeto Guardiamo le cifre L'ingaggio da due e mezzo Niente a stagione Visite mediche diritto Contenuti social Per Cheferen Io qui Rastini Continuo a essere così E va bene lo stesso Altre notizie Sempre legate Alla sfera Juve Allora il PSG Ha iniziato ad avere Di colloqui Con la Juventus Per cercare di ingaggiare De Anhausen Perché nei piani Loro c'è l'acquisto Di un altro difensore centrale E il club sta lavorando Quindi per cercare Di strappare De Anhausen Dalla Juventus E ragazzi Anche qua E' una trattativa Che potrebbe portare Nelle casse Dalla Juventus 20 barra 25 milioni E quindi Vediamo un po' Che cosa succederà Fatto sta Che la Juve Sta cercando Di lavorare Sempre sui fianchi Per Cercare di Trovare Dei soldi Da una cessione Perché? Perché poi c'è intenzione Di andare a chiudere Il colpo Cup Mainers Addirittura Da poco vi dico Anche che c'è stata L'intromissione Di un altro club Secondo Quanto detto Anche da Pedulla E mi fa piacere Che il ragazzo Abbia resistito Abbia detto No caro Liverpool Perché è stato il Liverpool A cercare Cup Mainers Io ho già Un discorso avviato Con la Juventus Quindi Do priorità A questo aspetto E poi vediamo La cosa mi ha fatto Estremamente piacere Perché c'è Voglia di Cup Di indossare la maglia Della Juve C'è la voglia Della Juve Di prendere Cup Ma ripeto Il tutto è vincolato Alla prima cessione Che sia Chiesa Che sia Hausen Eccetera Non è che Chiesa Blocca Cup Non è che No Non funziona così La Juventus Cercherà di fare Una cessione Per incassare del denaro E quel denaro Può sbloccare L'altra situazione Chiesa A ricordi logica Andrebbe a bloccare In realtà L'arrivo eventuale Di Gia Don Sancio Cioè Ad oggi è questa La situazione Ora Per quanto riguarda I piani Della Juventus Oggi Visite mediche Comunque per Kefren Turam Domani Inizia il raduno Vero e proprio Con la passerella Di chi non ha Partecipato Agli europei E di chi non ha Avuto impegni nazionali Per le varie Visite mediche Dopodiché Dopo le visite mediche Ci sarà Il classico E canonico Allenamento Pomeridiano Quindi primo giorno Di raduno Alla Juventus Saranno Qualche curiosità Qua e là Insomma Ragazzi Ne abbiamo Veramente Fino a qua Dal punto di vista La creazione Dei contenuti E poi ragazzi Vi dico Occhio Perché da domani Si parte Con le live Pomeridiane Con Il bianconero Che ad oggi Live Saranno serene Tranquille Programmate A certi orari Poi Volta per volta In base agli impegni Della Juventus Cambierà un po' La programmazione Per cui Continuate a seguirci Me, Romeo, Cri E tutta la redazione Del bianconero Perché ne vedremo Veramente delle belle Qua su youtube Io vi mando Ragazzi Un forte abbraccio Ci vediamo Sicuramente più tardi E sempre Fino alla fine Forza Juve ragazzi Ancora Per poco Con questi dread Perché domani E' finita